eccoci per la nostra sessione di mobilità anche oggi oggi è un po difficile più che difficile forse è un mini world di mobilità che richiede tanto tanto equilibrio si tratta di estendere la gamba prima frontalmente davanti a noi poi lateralmente e nel passaggio successivo la portiamo dietro questa sequenza siccome va fatta senza mai interromperla richiederebbe un grande equilibrio quindi che cosa possiamo fare possiamo provarci ma se vediamo che non ci riusciamo possiamo avvalerci della possibilità di aiutarsi con qualcosa teniamo accanto a noi una sedia uno sgabello oppure facciamolo vicino a un palo non lo so comunque qualcosa al quale potersi appendersi nel momento in cui questo equilibrio viene meno io proverò a farlo senza senza appendermi da nessuna parte vediamo se mi riesce e volevo dirvi un'altra cosa anche che farlo scalzi sul prato comunque anche sul pavimento di casa sicuramente aiuta perché abbiamo più aderenza al terreno un'altra cosa molto importante sarebbe la respirazione però io parlando non riesco a farvi a farvela sentire magari provo a dirvelo quindi ci mettiamo in piedi assicuriamoci di non avere niente che ci dia noia sotto i piedi come me adesso prendiamo il tallone io parto così per abitudine sempre dalla parte della mia parte destra prendiamo il tallone e stendiamo la gamba in avanti mentre l'altro braccio se ne va dietro nella fase ogni volta che estendiamo la gamba dobbiamo buttare fuori l'aria poi cambiamo la presa da esterna la portiamo internamente questa volta facciamo un'apertura laterale rientriamo prendiamo il tallone prendiamo il piede dal collo del piede lo portiamo dietro il braccio sale sopra la testa e ci chiniamo in avanti rientro adesso porto il piede sull'altra gamba lo lascio lì stacco le mani e buttando fuori l'aria anche qui mi vado a chiudere e appoggio la fronte sulle mani poi riapro metto giù la gamba destra e parto con la sinistra davanti facciamo fuori l'aria rientro cambio presa laterale mentre butto fuori l'aria rientro cambio presa l'aria rientro cambio presa l'aria rientro cambio presa di nuovo andiamo avanti rientro crocio stacco butto fuori l'aria mi sgonfio e abbiamo fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti